Vantaggio italiano con Riva, sorpreso l'estremo Sprake. Grazie a Mazzola, sembra una partita in discesa a Mazzola. ...doppia per l'Italia. Ecco, adesso il gol del Gulles, segnato di testa da Inglida, il nostro portiere Albertosi era fuori. L'Italia si rilancia all'attacco e realizza il 3-1 con Riva. Ormai si può pensare all'imminente... ...rombo di tuono chiude definitivamente per il 4-1. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.